Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno a tutti, sono Barbara Costabello e lavoro al Club per l'UNESCO di Torino da circa dieci anni. Oggi sono qui con il mio collega Enrico. Il Club per l'UNESCO di Torino è un'associazione che opera sul territorio piemontese e non solo, realizzando attività nel solco dei valori e dei programmi UNESCO. È possibile associarsi al Club per l'UNESCO di Torino e contribuire così attivamente alla realizzazione delle nostre attività. Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il patrimonio immateriale si manifesta nelle tradizioni, nel folklore, nell'artigianato tradizionale e negli eventi rituali e festivi, ad esempio. Salve a tutti, sono Enrico Di Pietro, sono uno studente di relazioni internazionali all'Università di Torino e collaboro con il Club per l'UNESCO di Torino da all'incirca due mesi. Sono 16 gli elementi italiani inseriti dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale. Cinque di essi si trovano proprio in Piemonte e sono L'arte della costruzione in pietra secco, conoscenze e pratiche, la transumanza, l'alpinismo, l'arte musicale dei suonatori di corno da caccia ed infine la cerca e la cavatura del tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali. In occasione del ventesimo anniversario della Convenzione UNESCO, il Club per l'UNESCO di Torino ha deciso per l'anno scolastico 2023-2024 di dedicare il percorso formativo dal titolo Patrimonio culturale immateriale, vent'anni di ricerca e valorizzazione delle tradizioni, in continuità con il percorso formativo precedente dedicato al patrimonio materiale e nell'ambito di un percorso formativo triennale dedicato al valore del patrimonio espresso dai diversi riconoscimenti UNESCO, in Piemonte e non solo. Tale iniziativa ha ottenuto il logo ufficiale UNESCO dedicato al ventesimo della Convenzione UNESCO ed è stato inserito nel calendario mondiale delle iniziative previste per celebrare questo importante anniversario. Il percorso formativo vede la partecipazione di oltre 30 docenti e oltre 500 studenti appartenenti a scuole di ogni ordine e grado della Regione Piemonte. Tuttavia essendiamo l'invito alle iscrizioni non solo a tutti i cittadini della Regione Piemonte ma anche a tutti i docenti e agli studenti del territorio nazionale, anche grazie alla presenza di oltre 105 club per l'UNESCO in Italia. Per andare più a fondo nel patrimonio vivente, nella conoscenza del patrimonio vivente, abbiamo deciso di nominare anche due designazioni UNESCO che trattano il patrimonio vivente, ovvero la Rete Mondiale delle Learning City, nella quale Torino è inserita dal 2016 e rappresenta la prima città italiana in questa rete e la Rete Mondiale delle Città Creative. Tre di queste sono proprio in Piemonte. Torino dal 2014 è diventata città creativa per il design, Alba dal 2017 è diventata città creativa per la gastronomia ed infine Biella dal 2019 è diventata città creativa per l'artigianato e le pratiche tradizionali. Il percorso formativo ha ottenuto patrocini prestigiosi, quello del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, di Torino città metropolitana, della città di Torino e dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La giornata inaugurale si è tenuta lo scorso 13 novembre presso il Campus ONU di Torino, dove il Club per l'UNESCO ha la propria sede. Prosegue il programma con quattro incontri formativi pomeridiani da novembre a febbraio 2024, con il lavoro nelle classi da febbraio ad aprile e si concluderà nel mese di maggio 2024, sempre al Campus ONU di Torino. Durante la giornata conclusiva gli studenti presenteranno i lavori realizzati. Vi ricordo che tutte le nostre iniziative possono essere seguite attraverso la diretta e le notizie pubblicate sulla nostra pagina Facebook Club per l'UNESCO di Torino, sugli altri nostri canali social e sul nostro sito www.cutorino.org. Vi aspettiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di dieci anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Benvenuti. Io sono Ornella Ponzoni ed è un piacere essere qui oggi per parlarvi dell'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione che da oltre dieci anni si occupa di donare e donazioni in tutta Italia. Oggi è un piacere ancora più grande essere qui perché è qui con me Bruno Cavallo, presidente dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza. Benvenuto. Grazie. L'abbiamo sentito anche dal contributo che è appena andato in onda. Un italiano su due non si fida e non dona. Io sono sicura che sarà capitato almeno una volta nella vita anche a voi di voler donare per una causa che vi stava a cuore, ma di esservi trattenuti da questo gesto di generosità, dal dubbio ma i miei soldi andranno davvero a buon fine, l'associazione si occupa davvero di quello che mi ha promesso, di quello che mi ha detto. Ecco, l'Istituto nasce per questo motivo, per dare una garanzia al donatore. Noi svolgiamo dei controlli annuali che sono molto rigorosi, si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale e vanno ben oltre quelli che sono gli obblighi di legge. Tutte le associazioni che passano i nostri controlli vengono inseriti nel database Io Dono Sicuro che è disponibile per tutti sul nostro sito www.iodonosicuro.it All'interno del database è possibile filtrare per territorio, per ambito di intervento e anche è possibile capire e sapere come donare a queste associazioni verificate e anche magari come diventare volontari presso queste realtà a cui è bene e sono meritevoli della vostra fiducia. Inoltre, a partire dal 2015, abbiamo realizzato un grande progetto nazionale che si chiama Giorno del Dono. Questo significa che dal 2015 c'è una legge in Italia che sancisce che il 4 ottobre di ogni anno è il Giorno del Dono, in cui si festeggia il dono in tutte le sue forme. Il mio invito è già da oggi di iscrivere soprattutto alle vostre scuole di ogni ordine grado e partecipare a un contest dedicato proprio alle scuole in occasione del Giorno del Dono. Come dicevo, è un piacere essere qui con Bruno e ho il piacere di chiedergli di cosa si occupa la vostra associazione e perché avete scelto di essere verificati dall'Istituto. Grazie. La nostra associazione, Maria Madre della Providenza, ODIV, ha già 27 anni di storia. Noi siamo nel settore socio-assistenziale e siamo soci dell'Istituto Italiano della Donazione dal 2008. Abbiamo deciso di diventare soci perché è un valore aggiunto che noi diamo alla nostra associazione. Molta gente, come diceva Ornella, non dona perché non sa dove vanno a finire i fondi e c'è molta diffidenza. Io ritengo che essere soci dell'Istituto Italiano della Donazione sia veramente una cosa in più e questo va a garanzia di tutti i nostri donatori. Maria Madre della Providenza attualmente ha 7 sedi operative, siamo oltre 300 volontari che lavoriamo. Abbiamo un bel gruppo giovani che ogni estate organizza dei campi per parlare già di volontariato ai ragazzi nell'età tra i 9 e i 14 anni. Qui a Torino gestiamo una mensa serale per persone senza fissa dimora e ogni anno distribuiamo circa 25.000 pasti. Oltre a questo diamo un aiuto alle famiglie in gravi difficoltà economiche mediante pacchi alimentari e contributi in denaro per il pagamento di bollette, di affitti e di riscaldamento. Grazie mille Bruno. La vostra associazione ci conosce da tanti anni ed è un piacere quindi avervi qui oggi e poter parlare della vostra attività. L'associazione Maria Madre della Providenza è un'associazione a cui poter donare in piena fiducia. L'appuntamento che mi sento di dare a tutti è proprio sul nostro sito www.iodonosicuro.it dove potete trovare tutte le realtà verificate dall'istituto. Grazie e arrivederci. Buongiorno, sono in compagnia dell'assessore Alessia Cerchia. Buongiorno a tutti. E sono a raccontarvi quello che è successo al Comune di Sangano quando una ventina di giorni fa a Genova in occasione del quarantesimo congresso nazionale ANCI il Comune ha ricevuto un premio nella categoria Innovazione e Sviluppo per un progetto che si basa su tre interventi tutti e tre basati e rivolti a una riqualificazione del territorio. Il primo è la riqualificazione dell'ex polveriera un territorio che il De Magno ci ha lasciato di circa 42 ettari. il secondo è un festival culturale destinazione terra 2100 dove anche la cultura fa parte della riqualificazione del territorio e il terzo è la creazione di una comunità energetica rinnovabile sul territorio del Comune di Sangano. Per quanto riguarda il progetto della polveriera devo dire che si tratta di un progetto molto importante da quasi 13 milioni di euro che il nostro Comune, la nostra amministrazione ma l'intera comunità e i cittadini sanganesi sta cercando di portare avanti ormai da diversi anni. La polveriera di Sangano era la seconda polveriera più grande d'Italia è stata ceduta dal demanio militare nel 2019 al nostro Comune e da allora il nostro Comune, la nostra amministrazione sta cercando di trasformarla. Vogliamo renderla, vogliamo aprirla a tutti i cittadini non soltanto ai sanganesi ma anche a chiunque voglia venire a visitare il nostro territorio trasformandola in un parco etico che dovrà nella nostra visione per il futuro e nei progetti che stiamo realizzando diventare un parco etico in grado di accogliere i cittadini sotto forma di area picnic, biblioteca nel parco, anfiteatro e tante altre iniziative. Vogliamo trasformare la polveriera in un centro al di fuori del centro del nostro Comune e vorremmo così trasformare anche il Comune di Sangano in un centro al di fuori del centro della Regione Piemonte. Aspettiamo tutti ovviamente per poterlo visitare insieme. Collegato al progetto Polveriera c'è anche la Comunità Energetica che è un progetto che nasce dopo una serata dove parlando di clima abbiamo capito che anche noi nonostante siamo un piccolo Comune possiamo fare la nostra parte e quindi abbiamo dato il là alla creazione di una comunità energetica rinnovabile. Abbiamo trovato sul territorio delle persone che hanno abbracciato il nostro progetto, degli imprenditori che hanno economicamente impegnato delle loro liquidità, hanno creato una società, una cooperativa di comunità che ha preso il nome di Sangano Energia Comune e da questo vorremmo coinvolgere tutti i cittadini a partecipare ad essere e diventare la soluzione al problema energetico che sappiamo essere un problema di tutti e dobbiamo poi anche rispettare delle quote che la Comunità Europea ci dà, quella soprattutto del 2030 che prevede un abbassamento al 50% di produzioni di CO2. In questo termine e in questo sviluppo abbiamo anche creato un festival culturale che quest'anno ha visto la prima edizione nel mese di luglio. Sì, il festival destinazione Terra 2100 che ha dato anche il nome al progetto che abbiamo presentato, come diceva il sindaco poco fa, al premio Anci Piemonte che è risultato tra i vincitori, ha proprio come obiettivo quello di restituire ai cittadini e a tutti gli interessati i risultati delle azioni che stiamo portando avanti sul territorio e che ha come scopo principale quello di condividere le buone pratiche in materia energetica e di tutela ambientale. Luglio 2022 è stata la nostra prima edizione che ha visto un'ampia partecipazione sia dei cittadini che delle istituzioni, dei sindaci, dei comuni limitrofi e quindi speriamo che anche la prossima edizione possa avere lo stesso successo e ovviamente siete tutti invitati a venirci a trovare per vivere con noi questa importante iniziativa. Abbiamo, in questa occasione, sepolto una capsula del tempo dove molti cittadini, bambini soprattutto, hanno lasciato un loro ricordo che verrà chiaramente letto nel 2100 e quindi tra 77 anni. Con questo ringrazio, vi saluto e vi auguro di poter passare delle serate e delle giornate divertenti e all'aria aperta in Val Sangone. Un ben ritrovati a tutti con questo consueto appuntamento di CNA di Torino. Oggi parliamo di un progetto che ha preso il via il 14 giugno del 2023, è il progetto In Perfetto che intende valorizzare i rifiuti e gli scarti di lavorazione delle imprese della città metropolitana di Torino per farli diventare nuovo prodotto o comunque per dargli un nuovo valore aggiunto, ma soprattutto per impedire che gli sfridi di lavorazione e gli scarti produttivi diventino un vero e proprio rifiuto da deferire in discarica. Qualche numero per inquadrare il problema. In Italia ogni anno mediamente le aziende manifatturiere producono 80 milioni di tonnellate di rifiuti industriali. È una quantità gigantesca, peraltro che si verifica all'interno di un'anomalia tutta italiana che non ha corrispondenze con quanto sta avvenendo nel contesto europeo. Che cosa succede in Italia? Succede che negli ultimi dieci anni il prodotto interno lordo è decresciuto circa dell'8.2%. Nonostante questa flessione, del resto anche abbastanza significativa, la quantità di rifiuti che annualmente le aziende producono è cresciuta del 25% all'anno. Questa anomalia è un dato preoccupante perché dietro i rifiuti o gli scarti di produzione, gli sfridi di lavorazione, abbiamo un impiego di ore uomo, di materia prima, di energia. Con i tempi che corrono questo diventa un problema sempre più importante per la tenuta del sistema manifatturiero italiano. Il progetto imperfetto che cosa sta facendo? Allora, CNA di Torino in collaborazione con AIPEC, l'Associazione Italiana per l'Economia di Comunità, con mezzo pieno ONLUS e con CERMIG Rete, hanno dato vita appunto il 14 giugno scorso ad un protocollo d'intesa che intende mettere in rete una pluralità di aziende produttive del territorio della città metropolitana di Torino per capire se gli sfredi e gli scarti di lavorazione di talune e aziende possono diventare nuova materia prima per altre aziende. Il progetto è partito questa estate con una sorta di censimento nell'area nord-ovest di Torino, è stato somministrato a cura della CNA di Torino anche grazie alla collaborazione con i comuni di Collegno, di Grugliasco, di Rivoli, un questionario a 700 imprese dei settori più disparati, dalla moda al legno arredo alla meccanica, insomma quelli che sono particolarmente rappresentativi della capacità produttiva del nostro territorio. Questo questionario ha prodotto un livello di attenzione di 81 imprese, che non sono poche, sono più del 10%, che hanno già manifestato l'interesse e la disponibilità a mettere tra di loro in rete, in filiera, gli scarti produttivi. Gli scarti sono le cose più diverse, possono essere gli sfredi di lavorazione al tornio di un'azienda meccanica, possono essere parti di tessuto che vengono appunto scartate durante i tagli dei cosiddetti materassi dalle aziende di abbigliamento, possono essere dell'ovatta di cellulosa, possono essere della segatura che viene prodotta all'interno delle falegnamerie. Tutti questi materiali in talunni casi avevano già una possibilità di recupero, ma talvolta con un valore estremamente contenuto. L'obiettivo invece è quello di dare il massimo valore. Siamo consapevoli che non si potrà mai eliminare completamente lo scarto di lavorazione, ma sicuramente nel 2023, con il costo delle materie prime e dell'energia alle stelle, le aziende non si possono più permettere gli scarti senza considerare l'impatto ambientale che l'eccesso di produzione che poi produce scarto va a determinare. Quindi assolutamente il progetto è imperfetto, è un progetto che è oggi in fase di laboratorio, intendiamo come sistema CNA insieme ai nostri partner valorizzarlo e farlo diventare una grande opportunità per le piccole e medie imprese, in particolare per le aziende artigiane, che sono ovviamente le aziende più fragili e per le quali il risparmio di materia prima, di energia e di costo uomo può fare davvero la differenza. Bentornati in questo spazio di Confartigianato Biella. Oggi parliamo di riuso, riciclo, sostenibilità di green. Spesso abusiamo con questi termini. Oggi invece riusciamo a capire che è naturale parlarne con due ospiti che si occupano di due mestieri completamente diversi. Valentina Vettoretto, rammendatrice, benvenuta, e Filippo Russo, riciclo della plastica. Partiamo dal rammendo. Il rammendo sembrava che fosse un mestiere del passato, perché sono anni che si rammendano le cose. Tu invece l'hai rimodernato, cioè pensando al passato hai avuto questa passione di rammendare tra l'altro anche dei tessuti pregiati. Come è nata questa idea? È nata che ho iniziato a lavorare otto anni fa in un'azienda di rammendo biellese. E sento che comunque è un lavoro che mi piace molto, che mi dà un sacco di soddisfazioni. Ho pensato di aprirmi questo piccolo laboratorio per poter portare avanti questo lavoro e farlo sempre nel capo finito. non è una lavorazione del tutto economica, perché comunque è una lavorazione che richiede tempo, precisione e tecnica. Quindi a volte ci sono ore e ore di lavoro, a volte ci metto anche una giornata intera per concludere una giacca. Tra l'altro tu hai un profilo Instagram bellissimo, perché si vede, sembra magico, sembra tutto finto. In realtà è un lavoro manuale di precisione dove riesci a rammendare una cosa che magari qualcuno getterebbe via. Certo, certo, sì. Diciamo che Instagram per me è stata un'ottima vetrina che mi ha permesso di farmi conoscere, insomma. Se dovessi convincere una ragazza giovane della tua età, magari anche qualche anno più giovane, a intraprendere questo tipo di attività, cosa diresti? Beh, sicuramente spererei che ci fosse la possibilità di alcune scuole per insegnare questo tipo di mestiere. e nel frattempo sicuramente il percorso migliore è affidarsi a un'azienda che si occupa di rammendo e fare un percorso formativo. Perché quando si parla di rammendatrice spesso si parla di persone, di operaie che lavorano in uno stabilimento, invece il tuo è un lavoro esclusivamente artigianale è sempre diverso, tra l'altro. È un vero e proprio mestiere, esatto, sì. Sì, perché poi sei sempre lì a cercare la soluzione migliore che non è sempre la stessa per tutto. Certo. Adesso parliamo invece di plastica e quando si parla di plastica c'è qualcuno che dice mamma mia, come facciamo? Questa plastica che non si consuma, la plastica inquina. Grazie a Filippo Russo che ha aperto negli anni 90 un'azienda che all'epoca non si occupava solamente di plastica e è riuscito a scoprire che ci sono innanzitutto sette tipi di plastiche diverse. Tra l'altro tante plastiche che non sono nate per il riuso invece attraverso la tua lavorazione può essere rimessa sul mercato. Bene, grazie. Permettetemi di dimostrare la bellezza della plastica. Ecco, quando ho detto sette tipi di plastica quali sono questi sette tipi per differenza? E come facciamo anche a distinguere una plastica da un'altra? Non è un problema. Allora, io direi oltre sette tipi di plastica. Qui ho portato un esempio come la plastica può avere mille sfaccettature. Una piccola storia di ciò, come è nata la mia azienda. La mia azienda è nata negli anni 90. all'epoca, insomma, nel monto industriale tessile tradizionale. Una piccola crisi e da lì ci rinventiamo del mondo. Però già da piccolo maneggiavi, cercavi già di... Assolutamente. Di conoscere il prodotto che stavi toccando. Da piccolo penso di aver creato il primo biopolimero con scarti di pomodori, con della farina e con della sabbia per aggiustare giocattoli. Avevo questa passione di costruirmi giocattoli e in base a quello che dava all'epoca l'ambiente ho cercato di inventare... Sì, è un'azienda biellese che ricicla la plastica che poi viene rivenduta in tutto il mondo. Quindi il riciclo della plastica è qualcosa di pulito, di riutilizzabile e magari anche di sostenibile. Assolutamente. Grazie ai nostri ospiti del territorio biellese, grazie Valentina e grazie naturalmente a Filippo Russo. Grazie. Tresci Dele, buongiorno a tutti. Mi chiamo Zeten Longhini e sono il presidentessa della comunità tibetana in Italia. Per chi non sapesse, il Tibet è occupato dal 1959 da 64 anni dal dominio cinese. Tuttora adesso non c'è la libertà di espressione, violano ogni diritto umano in Tibet. Tra quest'estate, tra giugno e luglio, con l'intergruppo parlamentare per il Tibet e con l'associazione Italia Tibet e con le varie pro-Tibet, abbiamo fatto due appelli. Primo appello per andare a verificare nel luogo dove durante il Covid c'è stata una massa di colonizzazione per i bambini, per sradicare dalla cultura tibetana e per i bambini per fare la rieducazione, quindi dimenticare la loro cultura e insegnare il cinese. Non danno nessun tipo di informazione. Abbiamo chiesto di andare un ente che vada a verificare veramente cosa sta succedendo. Il secondo appello che abbiamo chiesto dal 1959 all'età di sei anni, un bambino di sei anni è stato rapito per diocesi tibetano molto importante. Il bambino è Pancellama, Gede Unchukinima, e non si sa più niente da allora e stiamo chiedendo la verità su Pancellama al governo cinese per sapere se vivo, sta bene, con tutta la famiglia è stato rapito. All'età di sei anni, tuttora non sappiamo. E chiedo al gentilissimo governo di dare attenzione veramente e seriamente mettendoci le mani nel cuore anche per la questione del Tibet. Dal 2009 più di 160 persone si sono immolati per gridare la libertà in Tibet e lunga vita a sua santità dalle lama. che ritorni presto in Tibet che è in esilio da 64 anni e ora ha 88 anni. Adesso stiamo vivendo una storia difficile da Iran a Palestina che i due bambini vengono veramente brutalmente sotto la guerra e spero che finisca presto come anche in Russia e in Ucraina e quindi ci siamo anche Tibet e la Cina. Quindi chiedo, spero, prego che veramente nel 2024 ci sia un anno di pace e di serenità e che ci sia il dialogo tra questi popoli e che valga veramente il valore dell'essere umano e non più all'economia che dia l'importanza alle persone e al valore. Questo stiamo perdendo e che rinasca veramente un mondo migliore un mondo di grande amore e di saggezza e di compassione. In Tibet, se faccio questo gesto io vengo messa in prigione. Non posso sbandierare la mia bellissima bandiera del Tibet con i colori, vedete questi colori stupendi col sole in mezzo che diffonde il messaggio di pace e di serenità per tutto il mondo. Dove ci sono le linee rosse che possono, c'è un'apertura che possono entrare e chiunque possono venire a studiare e imparare il buddismo. Vi chiedo a tutti quanti di sostenere la causa tibetana. di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Buona visione. Grazie a tutti